Ancora un tentato furto in piano giorno ad Arezzo nel pomeriggio al negozio Sabò di via Crispi. Una signora è entrata all'interno di uno dei negozi Sabò e ha tentato di portare via il registratore di casa. Il titolare si trovava nell'altro negozio, ha assistito alla scena grazie al monitor della videosorveglianza ed è potuto intervenire subito. Colpisce la nonchalanza di questa signora che con grande tranquillità ha tentato di sradicare in piano giorno il registratore di casa del negozio, come ci racconta lo stesso titolare. Per la seconda volta in due mesi hanno cercato di fare un furto nei nostri negozi. La prima volta di notte alle tre e mezzo e ora di pomeriggio alle cinque e mezzo qui proprio nel negozio Uomo, mentre noi eravamo di qua nel negozio da donna, negozio Uomo, abbiamo visto dalla telecamera una persona che stava armeggiando nei dintorni della cassa e poi ci siamo resi conto che era chiaramente un tentativo di furto, siamo praticamente andati di là velocemente e abbiamo trovato questa donna, che poi è una donna, non so chi sia, non l'ho mai vista, una donna con in mano il cassetto della cassa, che lo stava portando via. L'abbiamo bloccata, fuori c'era fortunatamente un agente della Securpol che l'ha bloccata. Noi siamo associati alla Securpol, l'ha bloccata e in due minuti è arrivata due volanti della polizia, del 113, avvertiti da noi. Si parla molto di sicurezza, come vi sentite? Perché i commercianti sono quelli in prima linea, no? C'erano effettivamente due episodi in un mese, insomma sono tanti. Sono tanti, lo so, però purtroppo questo dovremmo fare i conti da un anno avanti sempre di più con il mondo che sta cambiando, che dobbiamo stare attenti. Fortunatamente noi con il discorso delle telecamere, insomma almeno per quanto riguarda le telecamere, ci abbiamo tutto registrato, sicché almeno questo è un grande aiuto. Per altre cose non potremo mica stare con le pistole qui dentro, no, quello non lo possiamo fare. Insomma, però il mondo è chiaramente cambiato, questo non c'è dubbio.